Uno dei temi che sta diventando sempre più attuale nell'ambito del conflitto della guerra tra Russia e Ucraina è il ruolo della Cina. Ed è giusto, credo sacrosanto, cercare di capire dove potrà andare a collocarsi il colosso asiatico, perché è ovvio che con le sanzioni, scusate se continuo a ripetere questa parola, sono anche alla fine della diretta, dicevo, è normale considerare la Cina e la Russia più vicini con le sanzioni europee, però bisogna ricordare anche un aspetto, che la Cina è già molto vicino alla Russia, per cui a chi dice stiamo regalando la Russia alla Cina, noi in realtà non stiamo regalando un bel niente, Pechino è già il primo partner commerciale di Putin, da prima della pandemia, sia per esportazione di gas e materie prime energetiche verso la Cina, sia per importe dei prodotti. La differenza è ovvio che passa per un aspetto, la Cina esporta una grande quantità di merci e tipologie di beni infinitamente più grandi della Russia, il made in China banalmente, Russia che al contrario si nutre per oltre il 50% dei proventi da gas. Il prodotto interno lordo russo è relativamente basso per le sue dimensioni, siamo vicini a quello spagnolo, le relazioni tra i due paesi sono già molto forti e di solito le strategie export, import ed economiche non tendono a essere eccessivamente dipendente da un paese, un paese non decide di diventare eccessivamente dipendente da un altro, pena il fatto che diventa troppo dipendente dall'altro paese, insomma non sto dicendo niente di nuovo, però la chiave è se avrà interesse Xi Jinping a compensare quello che Putin non potrà più avere dall'Occidente. Piccola parentesi sulla Cina, perché come detto si domandano in tanti del possibile ruolo della Cina che avrà all'interno di questo conflitto. In pochi, pochissimi invece, si domandano del ruolo dell'Africa in questo senso, in questo conflitto. E il nostro titolo ci introduce su questo argomento. Putin finanzia la guerra all'Ucraina con l'oro africano? Cerchiamo di capirne di più e lo facciamo con una collega, Cornelia Tölgis, spero che la pronuncia sia corretta. Cornelia, intanto ti ringrazio per essere qui, se l'ho sbagliata correggimi pure, africaexpress.it. Buongiorno Cornelia. Buongiorno a te e buongiorno ai tuoi ascoltatori, grazie di avermi invitata. Su Africa Express, di cui sto facendo vedere home page, ovviamente racconta l'Africa a 360 gradi e ovviamente i redattori non possono non declinare quello che sta accadendo al conflitto tra Russia e Ucraina. E in tuo approfondimento, Cornelia, racconti di come ci sia un vero e proprio assalto all'oro del Sudan e così con le ricchezze dell'Africa, la guerra in Ucraina viene sostanzialmente finanziata da parte di Vladimir Putin. I rapporti tra Sudan e Russia. Vogliamo partire da qui? Vogliamo partire da qui. I rapporti Sudan-Russia si sono intensificati con la visita di Al-Bashir alla fine del 2017 in Russia. In tale occasione Al-Bashir ha promesso una base militare sul Mar Rosso alla Russia. In un secondo momento, dopo che Al-Bashir è stato deposto, la questione è stata messa un pochettino in discussione, non è stato detto no, non la facciamo più, è stato messo in stand by perché avevano tante altre cose da rivedere. Ma non è mai stata messa in disparte. In questi giorni, pochi giorni fa, era già iniziato il conflitto ucraino-russo, Hemeti, bisogna spiegare agli ascoltatori forse chi è Hemeti, Hemeti Dagalo, conosciuto anche come Dagalo. È il numero due del governo sudanese, lui vicepresidente dell'Alto Consiglio, nonché vicepresidente del paese. E lo stiamo vedendo, ti interrompo solo cinque secondi Cornelia, nella fotografia su Africa Express è ovviamente l'uomo sulla destra, quello non in divisa. Divisa invece è il viceministro della difesa russo, Alexander Fomin. Dicevamo vicepresidente del Sudan, ma non soltanto Cornelia. Non soltanto. Il vicepresidente del Sudan ancora oggi è a capo del Rapid Support Forces, che sono dei paramilitari molto vicini ovviamente al regime, al potere ora, ma lo era anche quando c'era il Bajir, parliamo della guerra nel Darfur, i cosiddetti Janjavid, che ammazzavano gli uomini, reclutavano i bambini soldato e violentavano le donne. I diavoli a cavallo venivano chiamati così dalla popolazione. Sì, sì, dalla popolazione. E ancora oggi, cioè i rapi RSF hanno cambiato nome, ma insomma sono sempre gli stessi, i leader sono sempre gli stessi. Vedi Emeti, lui proviene dal Darfur, è originario dal Darfur, dove abbiamo, è stata anche combattuta questa terribile guerra, che in fin dei conti non è mai finita completamente. Lui e la sua famiglia sono anche proprietari di una grossa miniera d'oro, sempre nel Darfur, e esportano oro dappertutto, non soltanto naturalmente in Russia, anche negli Emirati Arabi Uniti, ne è stato esportato moltissimo. Il Sudan è ricchissimo in giacimenti auriferi. È ricchissimo di oro che pochi sanno in fin dei conti, perché è soprattutto concentrato anche nel Darfur. E Emeti, essendo ex uomo di Al-Bashir, ha saputo giocare bene le sue carte. E proprio appena ritornato, ha dichiarato, no no, allora noi ora questa base possiamo dare la concessione per costruire la base a Port Sudan, sul Mar Rosso, alla Russia. Adesso i dettagli di questa base, io non analizzo le questioni militari, sicuramente parlerà nei prossimi giorni e il nostro addetto a questo, Antonio Marceo, sui dettagli di questa base, ma insomma il Sudan è ben disposto a dare questa concessione alla Russia per avere ancora la maggiore influenza militare in tutta la zona. E naturalmente ci sono anche oppositori che non gradiscono questo, tra l'altro anche professori universitari, leggevo poco fa proprio un articolo su Sudan Tribune e su Dabangai, soprattutto Dabangai News, parlava appunto, aveva un intervistato Dabangai News, un professore universitario dice che bisogna analizzare meglio. Emeti non ha la capacità di analizzare la questione di una base militare, che cosa significa, cioè un'accusa grossa da parte di un accademico. Comunque la Russia ha svolto un ruolo anche molto importante durante le insurrezioni di piazza, poco prima che venisse deposto al Bashir. Al Bashir è stato sostenuto moltissimo dalla Russia durante quel periodo, infatti abbiamo anche visto, sono stati ripresi proprio da screenshot e quant'altro da diversi reporter la loro presenza come osservatori durante le manifestazioni di piazza. E alcuni rapporti giornalistici dicono ancora oggi che Wagner addestri le proprie forze di Rapid Support Forces, naturalmente documenti ufficiali in questo senso non esistono, non ne abbiamo a disposizione, ma molti rapporti giornalistici parlano di questo. Il legame è molto stretto, non soltanto militare, come abbiamo detto, ma anche dal punto di vista interessi. Se la Russia dà qualcosa, ovviamente vuole qualcosa indietro. Russia? Sì, scusa, no no, prosegui pure Cornelia. Scusa, ma la questione non è soltanto in Sudan, vediamo in Centrafrica. Il Centrafrica dove ormai dal 2018-2019 sono arrivati Wagner, dove persino il consigliere per la sicurezza nazionale centrafricana e un russo. Insomma, l'influenza russa sta galloppando, ora è arrivata anche in Mali e non peraltro i francesi, i partner europei, compreso anche il Canada, se ne stanno lentamente andando dal Mali proprio perché non possono addestrare da un lato l'Europa, addestrare le truppe magliane e dall'altro ci sono anche i russi. Insomma, questa cosa non va bene. L'Europa ha detto no, la Francia si è ritirata anche perché sono riusciti a fare una propaganda molto importante anti-francese, anti-europea in Mali. Ma come abbiamo visto, proprio ieri siamo usciti con un articolo e abbiamo detto, è stata aggredita una base, proprio una base importante in Mali e i russi non sono riusciti a ovviare questo massacro. Bisogna poi vedere come si evolve tutta questa situazione. Anche con i francesi gli attacchi sono stati importanti da parte dei jihadisti, ma con l'assenza dello Stato centrale questo continuerà. Ci sono vari articoli, vari approfondimenti su Africa Express legati, che lega, che collega l'Africa e il conflitto ucraina-russia. Ad esempio, insomma, in Senegal l'ambasciata ucraina ha provato a reclutare volontari contro l'invasione. Senegal, paese che si è dimostrato neutrale nel schieramento all'interno delle votazioni dell'ONU, condanniamo meno l'invasione russa. Senegal ha deciso di non schierarsi e infatti il governo di Dakar non vede di buon occhio l'iniziativa da parte dell'ambasciata ucraina. Tornando al tema dell'oro del Sudan, io, insomma, leggendo appunto il tuo approfondimento ho scoperto che in Sudan c'è anche il ministero delle miniere per far capire quanto sia ricco in giacimenti auriferi e, correggimi se sbaglio, Cornelia, molti di questi giacimenti sono, posso chiamarli, abusivi? Cioè dove teoricamente non dovrebbe avvenire l'estrazione per le condizioni molto pericolose in cui eventualmente i minatori si dovessero trovare? Sì, ma questo è un denominatore comune in molte parti dell'Africa. A volte li danno anche in concessione, non sempre sono abusivi. Li danno anche in concessione, però non dovrebbero andare molto in profondità. Invece se chiudo in occhio si fa finta di non vedere e poi succedono incidenti terribili, terrificanti. Come ho citato, mi inserono nell'articolo, a dicembre oltre 30 minatori sono morti. Non si bada molto alla sicurezza, si chiude un occhio, ecco, per un... la gente è pronta a fare qualsiasi lavoro oppure riportare a casa un pezzettino di pane alla famiglia. E questo oro, anche questi miniere però sono sorvegliate militarmente, però io siamo convinti che militarmente si intende rapid support forces, che sostituisce l'esercito regolare molte volte, ecco. Inoltre, come ricordi, insomma, sempre nell'approfondimento, l'80%, oltre l'80% del loro estratto nel Sudan, altro paese che si è schierato, diciamo, in maniera... che non si è allineato con la maggior parte dei paesi ONU sulla condanna dell'invasione russa, proviene proprio da questi siti informali, strettamente controllati dai militari e dove lavorano, come diceva Cornelia, oltre 2 milioni di persone per un misero tozzo di pane da portare alla famiglia. E citi anche un'inchiesta del Telegraf, secondo cui, e qui più o meno ci chiudiamo anche il cerchio, insomma, la Russia, in virtù degli accordi con l'ex dittatore al-Bashir, molto solidi. Io so che, peraltro, la Russia ha inviato mercenari o quantomeno militari per cercare di sedare alcune manifestazioni nell'Africa, forse non nel Sudan, ma nella Repubblica Centroafricana? Nella Repubblica Centroafricana, dove persino, vedi, tu stavi parlando prima dei legami Russia-Cina, ma in Centroafrica sembra, ed è stato riportato da Corvo News, che è un giornale locale che parla di Centroafrica, sembra che abbiano persino cacciato piccole miniere, gestiti ufficialmente da cinesi che hanno avuto la concessione ufficiale, hanno detto, bene andate, ora questa miniere è nostra. C'è un articolo, mi sembra, di maggio dell'anno scorso, dove abbiamo accennato anche questa faccenda, cioè anche con i cinesi la guerra tra di loro, e non dimentichiamo che qualche anno fa sono stati uccisi addirittura tre giornalisti russi che indagavano sulla presenza di Wagner in Centroafrica. I veri fautori, ovviamente le ricerche non sono mai state fatte, non si sa ancora oggi chi siano i veri responsabili dell'uccisione di questi tre giornalisti, ma sicuramente a qualcuno davano molto fastidio. Dicevo, e insomma, sacrosanta questa parentesi che hai aperto sul tema Cina, con cui più o meno ho voluto introdurre l'argomento Africa, l'inchiesta del Teciti, il Telegraf, secondo cui appunto la Russia avrebbe contrabbandato centinaia di tonnellate di oro dal Sudan negli ultimi anni, quadruplicando dal 2010. Questa è una notizia che invece abbiamo avuto modo di leggere anche su altri quotidiani, insomma, dal Sole 24 Ore e così via. Dal 2010 il Ciamino ha più che quadruplicato la quantità di oro detenuta nella Banca Centrale per qualcuno, per molti, per Cornelia, una sorta di forziere di guerra e che in questo caso, insomma, torna più che mai di attualità, diciamo così. Molto utile adesso per questa guerra, soprattutto, può attingere ai suoi tesori e può anche in un certo senso infischiarsi delle sanzioni ricevute, fino a un certo punto naturalmente. Si dice anche, avrei avuto modo di leggerlo, che è tra la più ricca la Russia con le riserve d'oro. Sono praticamente maggiori riserve d'oro di tutti i paesi. Non solo, non solo, cara Cornelia, c'è più oro che dollari nelle riserve della Banca Centrale e questo, insomma, è un altro aspetto. Tu hai citato un altro fattore chiave del conflitto e del tema che stiamo affrontando, le sanzioni, insomma, è come se in qualche modo la Banca Centrale russa si fosse mossa preventivamente nell'ipotesi e nella previsione che sarebbero inevitabilmente arrivate sanzioni più pesanti rispetto a quelle che abbiamo visto e osservato nel 2014, ma che comunque permette in qualche modo a resistere, insomma, l'onda d'urto all'impatto in maniera più tranquilla, meno incerta, insomma, alle sanzioni. Questa spinta verso la dedollarizzazione, possiamo usare questa espressione? Bravissimo, mi piace, mi piace molto. Non si è coperta bene le spalle, si è messa una buona corazza. Putin, bisogna dirlo, ha saputo giocare bene le sue carte, tra virgolette ovviamente e a discapito anche di molte vizi umane che sono andate perse, non solo in Africa, ma voglio ripetere e sottolineare che la presenza del gruppo Wagner ha fatto soffrire molte persone in Africa, molte, soprattutto in Centrafrica, dove non guardano in faccia a nessuno. Chi dà fastidio, anche se sono commissari di polizia o quant'altro, viene arrestato oppure sparisce. Chiudo con questo, che è la lotta contro i ribelli, perché sappiamo che dal 2013 è nata una guerra civile, vera e propria guerra civile in Centrafrica, della quale quasi non si parla. La lotta non è tanto per dare un sollievo alla popolazione, che naturalmente sono sempre civili che ci vanno di mezzo. È la lotta contro i ribelli per prendere il controllo sulle miniere e tutte le ricchezze. Per chi fosse incuriosito e interessato al tema, sempre su africa-express.info c'è un video reportage definito eccezionale, ma giustamente la storia dei mercenari russi della compagnia Wagner dall'Ucraina all'Africa. È un documentario interessante e inquietante che Africa Express ha messo in primo piano, affirma Massimo Alberizzi, che è anche il direttore, che salutiamo e ringraziamo. Abbiamo avuto modo anche di parlare con lui nel corso di questi ultimi giorni. Cornelia, grazie anche a te, ovviamente, per averci un po' raccontato aspetti che emergono e che vengono in qualche modo raccontati meno rispetto ad altri, anche perché tutto sommato purtroppo le esplosioni, i missili, i razzi e la fuga di chi vive in Ucraina al momento inevitabilmente attirano più l'attenzione. Ma questi sono aspetti che sono utili e interessanti per comprendere ancora di più in qualche modo quello che sta accadendo. Cornelia, buon lavoro e alla prossima. Ti ringrazio molto e saluto anche i tuoi ascoltatori. Ciao! Ciao!